Ciao ragazzi, oggi parleremo delle proprietà dei pistacchi. I pistacchi spesso utilizzati nei nostri aperitivi, attenzione a quelli addizionati di sodio, quindi di sale, ma se al naturale sono ricchissimi di sostanze nutritive, appartengono sempre alla famiglia della frutta secca oleosa, ma al loro interno, in particolar modo, troviamo fibra, ferro, rame, magnesio, fosforo, indispensabili al buono stato di salute. Da un punto di vista nutrizionale, contengono circa 56 grammi di grassi nobili ogni 100 grammi, 18 grammi di proteine e 5 barra 6 grammi di carboidrati per 100 grammi. Quanti pistacchi utilizzare, quanti pistacchi mangiare quando vogliamo fare uno spuntino, o perché no, uno spuntino serale o anche un aperitivo? Circa 30 grammi di solito è la razione consigliata. Quanti pistacchi sono? Sono circa 20 pistacchi da sgusciare per poter assorbire tutte le loro sostanze nutritive e mi raccomando, attenzione, che non siano addizionati di sale. Ciao, se ti è piaciuto questo video condividilo con i tuoi amici e seguimi sui miei canali digital. Ciao, al prossimo video! Ciao, ciao!